8 maggio 2022, abbiamo lasciato Sanson da poco, abbiamo parcheggiato la macchina a Colle Sanson sul confine Italia-Francia e siamo sulla testa della nava a 1935 metri sul livello del mare. La giornata è un po' nuvolosa, più vigina, però il posto è molto molto bello e merita di essere visto. Vediamo sotto di noi la frazione di Creppo, vediamo in lontananza il ponte di Loreto e ancora più in lontananza dove c'è il sole vediamo il monte Faudo e il mare. Ecco, qui sono alcune delle fortificazioni che sono qui nella zona di Sanson, nella bassa di Sanson siamo sempre in Liguria, a circa un'ora e mezza di auto dall'albergo Lucciola di Santo Stefano al Mare che vi propone queste immagini. Per informazioni telefono 084 48 42 36 oppure www.albergolucciola.com Saluti dalle montagne della riviera dei fiori.